Gentili telespettatori, buona giornata. Il Festival di Sanremo è diventato uno degli eventi più chiacchierati di questo ultimo mese. Non si è capito se è la politica che parla di Sanremo o è Sanremo che parla della politica. Ora si parla di, visto che ne sono successe di tutti i colori, si parla di Fedez e Blanco. Blanco è quello che tirava i calci e i fiori e Fedez è quello che ne ha combinato di tutti i colori, tradendo anche la moglie sul palco, no? Con quel bacio a un estraneo e si parla di 600.000 euro a carico dei contribuenti, cioè di chi paga le tasse. Dopo una settimana dalla fine del tragicomico Festival di Sanremo, Fedez con i suoi baci, la crisi vera, forse non vera, marketing o no, con Chiara Ferragni, la bravata di Blanco che, in accordo con la RAI, dove fanno anche le prove, tira i calci e i fiori, alle rose, risulta essere indagato dalla procura di Imperia per danneggiamento. Alla fine, indagato, quello che ha fatto in accordo con la RAI, che hanno fatto pure le prove, ma la RAI gli ha detto non dire niente, noi non ci conosciamo, noi non ci conosciamo, era tutta una scenetta per fare audience e poi andare avanti con i programmi sulla RAI per un mese, un mese e mezzo a parlare di questa roba qua. Tutta una roba di marketing, diciamo così, marketing. Certo, il segnale, il segnale dato agli italiani, alle nuove generazioni, che se non ti funziona un microfono spacchi tutto, immaginatevi un ragazzo a casa che percepisce, dice, non mi funziona il telecomando della televisione, spacco tutto il salotto, poi quando arriva a casa la mamma dice, cosa hai fatto? Ho spaccato il salotto perché non funzionava il telecomando, no? È normale, lo fanno anche in televisione. Ecco, a parte il messaggio distorto, aggressivo, volgare, eccetera, eccetera, addirittura la magistratura, danneggiamento quando, vabbè, ha spaccato le rose? 5 euro a rosa, quante rose saranno state? Vabbè, dategli una multa, tanto quella era d'accordo con la RAI, poi la pagherà la RAI la multa di nascosto, dategli una multa, no, 1500 euro per avere spaccato le rose. Beh, nel frattempo Pinuccio di Striscia la Notizia ha intervistato Massimiliano Capitanio, commissario a Gcom, che ha rivelato che per due episodi specifici la RAI corre un grosso rischio. Nel mirino sono finiti due episodi, appunto, FedEx che dà i baci, e rosa chemical e poi blanco contro l'allestimento floreale che era presente sul palco, secondo indicazioni europee, il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la RAI rischia una sanzione fino a 600.000 euro, spiega Capitanio, che non è il Capitan Salvini, ma è Capitanio, si chiama così. I due episodi controversi sono entrambi avvenuti prima della mezzanotte e quindi non sarebbero stati tutelati i minori. Come vi dicevo prima, è un esempio pessimo. Il messaggio qual è? Non ti funziona una cosa e spacchi tutto quello che hai intorno. Servizio pubblico! Beh, brava! Complimenti alla RAI! Cosa vi posso dire? Fantastici! Veramente in nome dell'audience. In nome dell'audience qualunque cosa, vero? Televisione statale che deve competere con l'audience con le altre televisioni. Vabbè. I due episodi, avvenuti prima di mezzanotte, non avrebbero comunque tutelato i minori. A finire sotto accusa c'è anche la pubblicità. A tratti estrema che è stata fatta a Instagram durante le serate del festival, specialmente in cui era coinvolta Chiara Ferragni, la G-Com ha il compito di tutelare l'utente che deve essere informato se in quel momento è in corso la pubblicità. Deve esserci scritto messaggio pubblicitario, quindi vi fanno vedere Instagram, deve venire fuori scritto messaggio pubblicitario. Noi non abbiamo visto, noi, io parlo al plurale come se fossi il mago Thelma, noi, io e me stesso, non abbiamo visto scritte in sovraimpressione. Non è stato comunicato o cos'è? Una pubblicità occulta o una pubblicità che è venuta fuori per sbaglio? Cioè lo facevano per fare la scenetta ed è venuta fuori la pubblicità? Chi lo sa? Sta di fatto che Amadeus ha acquistato due milioni di seguitori su Instagram e oggi con quel seguito, tramite quella pubblicità occulta o non occulta quello che è, lui adesso può per ogni post chiedere anche tanti soldi, quindi può monetizzare il suo Instagram, cosa che nessun italiano ha la possibilità che su un Sanremo Chiara Ferragni ti dice e ti pubblicizza su Instagram. È una roba impagabile, insomma. Quindi se verrà fatto un esposto verificheremo se si tratta effettivamente di pubblicità occulta o che tipo di pubblicità sia stata fatta. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, massimo una cinquantina di minuti, ringraziandovi perché il canale ha raggiunto e superato 240 milioni di visualizzazioni, Teleitalia Seconda Rete ha superato i 5 milioni di visualizzazioni, mentre poi questi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, dove lì a vostra volta, se vi sono interessati, li potete condividere sui vostri profili. Grazie ancora e ricordatevi che poi nella community del canale spesso ci sono sondaggi, ci sono dei video condivisi e anche notizie di vario genere inerenti al canale, Mestess, Mestess o altri. Grazie a tutti nuovamente e ci vediamo presto.